60 anni di pittura contemporanea a Gualdo Tadino. Autore, Sissi Corrado. Omaggio al gallerista Pio Monti protagonista dell'arte contemporanea. L'arte contemporanea è protagonista a Gualdo Tadino, Perugia, con la mostra Pittura Italiana Contemporanea. Ultimi 60 anni. Un percorso di ricerca per Mari e Monti curata da Cesare Biasini Selvaggi, presso la chiesa monumentale di San Francesco, nell'ambito di contemporaneamente Gualdo Tadino che sarà visibile dal 5 agosto al 7 gennaio 2024. È il primo omaggio pubblico al gallerista Pio Monti, durante il quale verranno esposte oltre 40 opere di artisti contemporanei, quali Janis Caunellis, Alighiero Boitti, Soluit, Luigi Ontani, Gino De Dominicis, Vettor Pisani, Enzo Cucchi, Mario Schifano, Tano Festa, Nunzio, Stefano Di Stasio, Marc Costabi. La mostra è una ricognizione degli ultimi 60 anni della pittura contemporanea italiana, seguita con interesse dallo storico gallerista Pio Monti, venuto a mancare lo scorso novembre all'età di 81 anni e protagonista dell'arte in Italia negli anni 70. Oltre agli artisti grande importanza hanno avuto i galleristi che erano veri curatori dell'artista stesso, non solo in ambito artistico, ma anche personale. Il viaggio che potrà essere fatto all'interno della mostra, è caratterizzato dagli eventi e dalle sperimentazioni che hanno caratterizzato la pittura negli ultimi 60 anni. Sarà la riscoperta dell'arte di artisti che hanno movimentato la scena dell'arte in Italia, ma anche la visione di gesti, tratti, sperimentazioni che hanno portato l'arte a confrontarsi con sempre più attenzione, con la realtà. Ma anche la scoperta di un'arte vista, a volte, in modo troppo critico e poco accorto. Il progetto è stato realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, accompagnato da un catalogo pubblicato da Edizioni K-Bit grazie al sostegno di DMG Italia SRL.